Viaggiavano in camper come tanti turisti diretti al lago di Garda, ma sotto al letto dentro la cabina nascondevano un carico di droga, 4 kg di eroina purissima che sul mercato avrebbe fruttato almeno 700.000 euro. Nei guai una famiglia di tedeschi e turchi, due pensionati con un figlio quarantenne e un amico di famiglia al seguito. La droga proveniente da Istanbul via Grecia in realtà era destinata alla Germania ed era già divisa in panetti di diverso peso per un motivo. Perché era destinata probabilmente a dei clienti veronesi, brillante operazione, enesima brillante operazione della squadra mobile di Verona, perché ultimamente stiamo contrastando efficacemente non solo il microspaccio ma anche questa attività di più alto spessore perché in questo caso il sequestro è ingente. Si tratta di 4 kg di eroina, sono stati arrestati 4 persone in immediatezza, i responsabili in realtà sono due, fra l'altro sono turchi residenti in Germania che hanno fatto un viaggio apposito recandosi a Istanbul e caricando questi 4 kg in un camper dove abbiamo trovato la droga nascosta sotto le doghe di un letto. Soddisfatti gli inquirenti per un'operazione complessa da gestire. Abbiamo avuto una collaborazione sia dall'Interpol sia dal Servizio Centrale Operativo di Roma con l'indicazione precisa dei mezzi utilizzati dai trafficanti e sul territorio abbiamo agito benissimo perché nella serata del 23 eravamo fuori con parecchie pattuglie e siamo riusciti a intercettare a Bardolino la presenza di questo camper e quando sono arrivati siamo intervenuti. Solo due delle persone arrestate sono accusate di traffico internazionale di stupefacenti, il pensionato è quarantenne e per gli altri due invece è stata prevista la scarcerazione.